Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio e la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano il tema dell'edilizia residenziale pubblica con l'ok arrivato dall'Aula di Palazzo del Pegaso all'aggiornamento del piano regionale. Vediamo. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato il piano regionale di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aggiornato, articolato nelle proposte di cessione del patrimonio formulate dai comuni. Per legge infatti le amministrazioni individuano entro 180 giorni gli immobili cedibili e formulano la proposta di cessione degli stessi e di reinvestimento dei relativi proventi. Noi abbiamo fatto in commissione prima che in consiglio una discussione importante durata molto tempo abbiamo udito le parti sociali, abbiamo udito gli uffici abbiamo analizzato i dati e insomma mi pare che su questo sia chiaro un elemento e cioè che le politiche abitative richiedono più risorse mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per i fondi affitti per l'amorosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio a casa mia vendere non vuol dire aumentare il patrimonio ma vuol dire ridurlo tant'è che noi i dati che ci hanno portato è che ogni per comprare una casa nuova ci vogliono tre vendite questo è il rapporto che c'è tra le vendite, i prezzi ERP che sono acepolati e l'acquisto di nuovi alloggi quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP e comunque sia al di là delle volontà di tutti sono tutte quelle proposte che sono venute dall'opposizione sono proposte di bandiera perché se guardiamo il piano degli ultimi cinque anni, negli ultimi cinque anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP erano vendibili 1.400 alloggi ne sono stati venduti 178 in cinque anni perché le persone che vanno nelle case popolari sono persone che non hanno disponibilità economica e quindi hanno scelto di non comprare In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in graduatoria da anni noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro possiamo ristrutturare tutti i 5.000, i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruire di nuovi per poter accedere alle graduatorie ERP bisogna dimostrare di non avere proprietà immobiliari in Italia o all'estero questo controllo viene fatto sicuramente sui cittadini italiani ma è fatto in maniera difficoltosa a volte quasi impossibile nei confronti dei cittadini che provengono dall'estero perché non c'è l'accesso ai catasti esteri noi abbiamo proposto di fare dei protocolli di intesa con gli stati esteri con quelli dai quali arrivano il maggior numero di cittadini stranieri che poi fanno la graduatoria delle case popolari e poter fare questo controllo incrociato non era niente di straordinario è chiaro, gli stati si restringono a quelli maggioritari quindi Romania, Albania, Tunisia, Marocco, Bulgaria non è che si deve andare a cercare lo stato dell'Africa subsahariana Ricordo che come dice il rapporto IRPET di marzo di quest'anno nel 2022 i nuclei familiari che usufruiscono di alloggi ERP sono 45.000 di fronte a un bisogno di 124.000 famiglie di cui il 53.000 in povertà assoluta ora pensare che limitare il numero delle persone che accedono agli alloggi ERP perché hanno immobili nei loro paesi di origine è assolutamente assurdo primo perché queste persone scappano dalla guerra dalla fame, dalla siccità e molto probabilmente non hanno niente nei loro paesi di origine molto difficoltoso l'attuazione di un accordo internazionale per accedere ai catasti dei paesi stranieri anche perché molto spesso in questi paesi o c'è la guerra o non ci sono catasti quindi una misura veramente inconsistente e superficiale e poi vorrei ricordare che di fronte a una misura come il Fondo Sociale per l'Affitto che riesce a dare una risposta maggiore a un maggior numero di famiglie il governo nel 2024 ha azzerato completamente il fondo e rimangono solo le risorse di regione e comuni quindi io vorrei capire come intendono risolvere il problema al di là di queste manifestazioni esclusivamente elettorali che parlano alla pancia delle persone senza spiegare la portata del problema intanto sul fronte sanitario continua l'impegno della regione e del Consiglio regionale nel sostenere le famiglie alle prese con i problemi legati ai disturbi dell'autismo voto unanime dal Consiglio toscano a una mozione che impegna la giunta regionale ad attivarsi celermente affinché si proceda all'emanazione di uno specifico atto finalizzato a riordinare complessivamente la materia e a favorire una presa in carico uniforme a livello regionale dei pazienti con disturbi dello spettro autistico garantendo la continuità delle terapie il riconoscimento dei percorsi già prescritti nonché dei relativi rimborsi riconducibili all'annualità 2023 e a quella in corso Le persone che vivono nello spettro autistico possono continuare nelle loro terapie in particolare la terapia ABA e quindi tutti i percorsi anche paralleli a questo è un fatto anche di dignità perché nel 2023 erano stati negati i rimborsi e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre asle perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema dei rimborsi e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli appunto che vivono nello spettro autistico di poter avere rimborsi poi chiaramente questo atto vuole anche dare sostegno alle famiglie e vuole dare maggiore inclusione a queste persone e quindi io credo che oggi sia stato fatto qualcosa di importante perché è un fatto che aveva scandalizzato un po' tutti e finalmente si riporta in linea fino a quello che era successo nel 2022 su questo tema e quindi il Consiglio regionale tutto ha approvato questo atto e quindi esprimo veramente soddisfazione è un documento importante è un documento che rionosce dei diritti che le famiglie e soprattutto i ragazzi affetti dalla sindrome di autismo aspettavano la questione per quello che riguarda per dire le risorse per sanare perlomeno le richieste che erano state fatte nel 2023 dalle famiglie con handicap soprattutto le famiglie di figli autistici la consideriamo una vittoria perché sono mesi che noi ci spendiamo in realtà io sono anni che mi spendo sull'autismo sia per quello che riguarda la questione didattica dobbiamo considerare che in Toscana mediamente ogni 120 bambini nasce un bambino affetto ad autismo fortunatamente le diagnosi sono sempre più precoci questo mette in condizione questi ragazzi di essere seguiti subito diciamo dall'infanzia più tenera è importante dare a loro però anche un percorso scolastico cercando di fare il massimo della formazione cosa che purtroppo ancora oggi non avviene per gli insegnanti d'appoggio perché quasi tutti questi ragazzi soprattutto quelli ad alta e media funzionalità hanno capacità e specificità che se supportate e coltivate poi possono diventare risorse straordinarie per tutta la comunità spazio anche all'arte con una mostra in particolare in esposizione in Palazzo del Pegaso dedicata all'arte del pistoiese Bartolozzi un'esposizione incentrata sul lungo percorso di Flavio Bartolozzi iniziato nel 1958 e che rende omaggio ad uno dei protagonisti dell'arte toscana è frammenti di visioni la mostra visitabile fino a questo mercoledì 24 aprile inaugurata nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso che si concentra sulle ultime produzioni dell'artista un lavoro creato come una sorta di osmosi tra la grafica, il disegno, segno, il cromatismo delle tempere, l'arte classica e la scultura questa esposizione intanto è un'arte che non ha confini, non ha limiti tutti i materiali possano essere utilizzati e se utilizzati in maniera sapiente possono diventare arte arte come il linguaggio a favore e nei confronti di tutte le persone che hanno piacere di assistere all'evoluzione culturale e sociale di questo territorio la Toscana in particolar modo non lo dico per campanilismo potrei parlare di tutta l'Italia, Europa e via dicendo ma diciamo il fenomeno artistico è un qualcosa che in un mondo fatto di tantissime cose forché di cultura è bene che continui a esistere sia degnamente rappresentato da artisti di valore come lo è Flavio Bartolozzi lo stimo molto per quello che esprime con il suo lavoro che veramente spazia in ogni settore perché diciamo alla base di tutta la sua ricerca artistica c'è sempre la figura di Michelangelo però poi lo interpreta in tutti i modi possibili dal disegno fino ad arrivare al collage questa mostra l'abbiamo proprio dedicata esclusivamente alle opere di collage che possono sembrare un po' particolari anche difficili di interpretazione ma sono veramente straordinarie Picasso quando era giovane anche lui piaceva il collage e disse un giorno ho smesso di fare collage e per me è stato un gran dolore il collage ha due segni la forma e il segno perché la forma è la carta che incolli sulla tela e il segno è il modo di raccontare la storia dell'arte in Palazzo Bastoggi invece il Consiglio regionale espone le opere del Premio Firenze vediamo è stata inaugurata nella sala delle collezioni di Palazzo Bastoggi la mostra che raccoglie una selezione delle opere che hanno concorso alla sezione arti visive della quarantesima edizione dello storico Premio Firenze di letteratura e arti visive rivolto a letterati artisti italiani e stranieri l'esposizione proseguirà fino a questo mercoledì 24 aprile questa mostra rappresenta il naturale epilogo dei lavori 240 presentati a concorso in occasione del quarantesimo Premio Firenze di letteratura e arti visive abbiamo raggiunto un traguardo straordinario 40 anni di vita per un centro culturale e per un premio che abbraccia 5 settori in letteratura e 4 comparti nelle arti visive è un traguardo straordinario che ci riempie di orgoglio e il numero sempre crescente di adesioni dei concorrenti 417 se non vado errato in letteratura e 240 appunto nelle arti visive nel 2023 ne sono la testimonianza praticamente questa mostra riunisce una selezione di artisti su tutte e quattro le sezioni al concorso quindi pittura, grafica, fotografia e scultura si può considerare un quarto premio ex eco tra tutti loro perché il fiorino d'oro, l'argento e il bronzo sono premiati in Palazzo Vecchio in dicembre nella cerimonia ufficiale ed espongono solo l'opera in quel pomeriggio mentre in questo caso è una vera e propria partecipazione ad una collettiva che rappresenta un po' tutto il premio sono circa 60-62 opere derivano da paesi anche europei come la Grecia e la Svizzera ma anche con una grande rappresentanza dalla Cina un filo conduttore non c'è perché ogni artista è libero da sempre proprio da bando sia nell'esprimere la propria ricerca sia nelle tecniche che può usare quindi anzi direi che il panorama è interessante proprio sotto questo aspetto per la ricchezza dei linguaggi e delle tecniche che rappresenta Questi dunque erano i principali argomenti della puntata odierna della Voce del Consiglio l'appuntamento con la nostra trasmissione torna la prossima settimana grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti